Amici telespettatori, dopo la sosta pasquale benvenuti alla puntata numero 221 di Punti a capo e torniamo a dibattere dal punto di vista politico sull'andamento di questa città e soprattutto appunto un dibattito politico che apre a 360 gradi verso la discussione, verso il confronto. E con chi lo facciamo? Per questa puntata abbiamo deciso di farlo con un personaggio tra i più in vista di questa città che, ai ai ai, ci ha fatto sputtare 221 puntate, ma finalmente abbiamo il piacere e l'onore di averlo in trasmissione. Sto parlando di Enzio Vinciullo che andiamo ad accogliere come sempre con un sorriso e una stretta di mano nell'angolo riservato alla nostra trasmissione. Buona giornata. Ciao Enzo. Grazie. Benvenuto a Punti a Capo. Il piacere è solo mio. Ti è piaciuta la presentazione? Bellissima. È stata in poppa magna? Sì, si vede che siamo amici. Quindi non siamo credibili. Questo non siamo credibili. Allora, da questo momento lascio la veste di amico, di vecchia data, e vado a fare quella di giornalista imparziale. Enzo Vinciullo è a Punti a Capo per parlare innanzitutto di lui, ma per parlare soprattutto di cosa sta succedendo in questa città. Io volevo iniziare a farlo con... mi sono stampato, ecco questo lo metto a favore di telespettatori, le immagini di copertina che Vinciullo ha posto su Facebook, sia sul suo account personale che su quello della pagina. Perché faccio questo? Perché io insomma seguo molto i social dal punto di vista lavorativo, cioè li uso come lavoro e ho capito ormai da tempo, mi sono anche specializzato, eccetera. Caro Enzo, che senza i social non si va più da nessuna parte. Prima erano altri gli strumenti molto obsoleti, le notizie arrivavano con molto ritardo. E non solo Facebook. La notizia è immediata. Basta vedere che i vari ministri, i vari esponenti del governo usano Twitter per comunicare ormai le notizie importanti in mezzo. Certo, è chiaro che alcune notizie non andrebbero comunicate via Twitter o via Facebook, ma attraverso le sede disfunzionali, però prendiamo atto di questo. Ho voluto dire di chi sta al governo e di chi sta in alto, per non dire anche delle amministrazioni locali che usano pure molto i social con i video in diretta per vedere quello che si va. Ma insomma, questo è un altro discorso che faremo in un altro momento. Vi leggo cosa ha scritto, ti chiamo ancora onorevole, inciullo, sei ancora Presidente Emerito della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana. Quasi 7.000 voti sono una testimonianza di fiducia e di stima che mi spingono ad andare avanti con la consueta determinazione e onestà. Qui devo fare due piccoli commenti. Sulla determinazione e sull'onestà è vero, perché ogni presente sulla determinazione e sull'onestà sei, lasciami passare la battuta, uno dei pochi a non essere indagato. E già questo fa notizia. 7.000 voti sono quelli che hai preso alla tornata elettorale regionale. Siate certi che non vi deluderò, andiamo avanti insieme verso nuovi traguardi. Grazie Enzo Vinciullo. Da quel momento, pur non avendo in questo momento nessuno in carico istituzionale, non ti sei fermato più di prima forse? No, ho continuato, solo che prima stavo 4 giorni alla settimana a Palermo e quindi ero lontano dalla mia città. Adesso, stando 7 giorni su 7 a Siracusa, in provincia di Siracusa... Dove fai il professore? Sì, per essere chiaro, così come avevo fatto l'assessore comunale, perché tutti tendono sempre a dimenticare le cose, io sono stato il primo assessore comunale nella storia di questa città che quando è diventato assessore ha rinunciato allo stipendio di professore prendendo solo quello di assessore, altri invece hanno continuato a accumulare il doppio stipendio. Chi era sindaco quando eri assessore comunale? Era Bufardecci. Ditti Bufardecci, così come quando sono ritornato a fare l'assessore da deputato regionale, non ho mai preso un centesimo, mai preso un centesimo, nemmeno le spese di rappresentanza, perché sono state sempre a carico mio. Dicevo, io ho fatto politica per passione, per impegno, perché credo che la politica debba occuparsi dei problemi della gente, per cui vedo il 15 dicembre del 2017, senza voler soffrire di nessun vantaggio che in genere spetta agli ex deputati, io sono ritornato a scuola. Nessuno ci credeva, tutti eri convinti che anch'io avrei iniziato percorsi tortuosi per non ritornare a lavorare, invece io credo nella mia attività, ho studiato per fare l'insegnante, mi sembrava giusto e opportuno dare ancora una volta l'esempio e tornando quindi a svolgere la mia attività, in cui credo e devo dire, stando a quello che dicono i miei alunni, mi troverei anche bene. Sì, ho capito, non ho dubbi che tu faccia bene il professore, ma continui a fare politica quotidianamente, non c'è un giorno che non ti interessi dei problemi della città. Ma io ho un impegno morale nei confronti della città e della provincia, vedo, io non sono deputato, non perché la gente non mi ha votato, io se il partito dove militavo avesse superato la soglia dello sbarramento del 5%, anche in questa legislatura sarei stato il deputato con la cifra individuale più alta di tutti i deputati. Dipenti oggi di quella scelta politica? Assolutamente no, non mi pento, non è stata una scelta di cuore, è stata una scelta razionale. Io avevo militato in alleanza nazionale, poi i fini ci aveva portato all'interno del PDL, quando si è sciolto il PDL ho scoperto che mi avevano esposto dal partito. È una ferita ancora aperta, perché l'espulsione era avvenuta senza che io sapesse nulla, senza che mai i propri vira avessero aperto un procedimento nei miei confronti, e si dà il caso, io ero l'unico deputato in regola con il pagamento delle tessere, che valeva 3.000 euro una tessera, ecco, nel PDL per i deputati, ero l'unico che aveva sempre pagato regolarmente, l'unico che versava mensilmente quello che era dovuto al partito in cui militavo. Diciamo, il giorno del scioglimento del PDL mi sono regato a Roma e ho scoperto che non ero tesserato e di conseguenza l'unica possibilità che io avevo era quella di andare nel nuovo centrodestra, che allora appariva come un partito che doveva dare vita a un centro moderato che guardasse a destra. Poi gli eventi sono cambiati, io non sono abituato a cambiare partito, perché ricordo, era un'alleanza nazionale, sono andato nel PDL e sono stato uno dei sette che si è opposto sempre centrodestra a passaggio con Forza Italia, perché sapevo, io avevo spiegato nei minimi particolari quello che sarebbe accaduto, per un semplice motivo, perché Forza Italia era un partito aziendalista, alleanza nazionale invece era un partito dove si discuteva, io con Fabio spesso litigavamo in maniera furente, ma non litigavamo per Granate, l'attuale assessore, ma non litigavamo per fatti spiccioli, per fatti concrete, litigavamo su progetti, su programmi, e poi proprio perché si litigava solo e esclusivamente sulla politica, poi umanamente, siamo stati sempre molto vicini. Allora per essere chiari, il problema era diverso, quello non era un partito, era un'azienda, e di conseguenza l'errore mortale di fine fu quello di pensare che andando nel PDL si potesse accendere la discussione così come avveniva in alleanza nazionale, così non era. Questa è storia della politica, però io voglio tornare ai tempi d'oggi, e tu già mi hai detto... E' tant'è vero che le posso dire che prima della chiusura delle liste, un po' tutti i partiti del centro-destra, io ricordo che Cesa fece le trattative per formare il suo partito nella mia stanza personale a Palermo, non avrei potuto approfittare e accogliere il suo invito. Non l'ho mai fatto, perché non sono abituato a cambiare casacca, non sono abituato a cambiare schieramento. Inoltre, io avevo una particolare attenzione e rispetto nei confronti del magnifico rettore dell'Università di Palermo che conoscevo da prima, ne ho sempre apprezzato le competenze e le capacità del resto di essere rettore. Queste competenze e capacità ci sono sicuramente e ritenevo non adeguato questa coalizione a rappresentare i problemi della Sicilia e del resto veda un governo regionale che non riesce a distinguere fra debiti e mutuo e continuare a dire di avere debiti quando invece è soltanto mutuo, è chiaro che qualche difficoltà ce l'è. E qui arriviamo al problema. Prima di andare alla situazione locale, visto che è citato anche l'assessore Fabio Granata che salutiamo, partiamo dalla regione, dalla tua esperienza regionale. Perché ti faccio questa domanda? Intanto, nell'altra immagine di copertina, qualcuno dice ma che megalomere, perché elenca tutto questo. No, io credo che sia anche giusto far sapere a tutti quello che hai fatto. Sei stato primo per l'attività parlamentare durante il tuo mandato di deputato, 33 volte relatore di disegni di legge, mille interrogazioni parlamentari, 110 disegni di legge, 41 ordini del giorno, 15 mozioni, 2 interpellanze, insomma, non ti sei risparmiato. E quindi ti chiedo, visto che non sei più deputato, ma mi sembra che sei rimasto legato a filo stretto con la regione. Che ne pensi del governo musulmane? Io faccio un ragionamento sul governo. Perché ci interessa molto da vicino. Sul governo. Qualcuno si lamenta che lui trascuri Siracusa. Sul governo in generale. Ma intanto Siracusa ha un assessore, quindi il fatto di avere un assessore già avrebbe dovuto mettere la provincia di Siracusa al centro del dibattito politico regionale. Ma la verità è che non trascura la provincia di Siracusa. Io ho l'impressione che questo governo si occupi in maniera ossessiva della provincia di Siracusa e cerca di scippare alla provincia di Siracusa quello che io sono riuscito a ottenere in cinque anni. Perché veda... Hai capito il senso della mia domanda? Veda, stamattina scopro che ci stanno scippando anche l'ARPA. La sede dell'ARPA di Siracusa. Ricordiamo che è l'organo di controllo. Ma immaginate, no? Siracusa è uno dei più grandi centri industriali del mondo, non dell'Europa. Quindi l'ARPA non andrebbe depotenziata, ma l'ARPA andrebbe rafforzata. Tant'è vero che avevamo pensato all'assunzione di ulteriori 38 unità. Invece stamattina scopro con mia grande amarezza, domani mattina uscirò proprio su questa vicenda in maniera pesante, che l'ARPA di Siracusa chiude. Non avrà più un direttore, non avrà più la sua autonomia. Divenderemo ancora una volta vassalli di Catania. Ma veda, e in questo senso si inserisce. Che le posso dire? La commissaria della provincia, con tutto il rispetto, poi so che lei si seccherà, però lo devo ricordare, è catanese. Il presidente o l'amministratore delegato di Siracusa e risorse è catanese. Il sorprendente ai beni culturali della mia provincia è catanese. Il direttore del CIAP, che fino a prova contrario è siracusano, è di Catania. Potrei continuare all'infinito a citare casi, non ultimi, di un risultato amministrativo dell'ASP di Siracusa, anche lui Catania, il dirigente generale dell'ASP di Siracusa che arriva da Grigento. Per essere chiari, c'è una invasione, parentela, grazie a Dio che Catanessi, non ce l'ho, c'è una invasione da parte di questi soggetti politici a noi vicini che continuano ad interferire anche in vicende squisitamente locali, ad esempio quella relativa all'ospedale. e dopo di che veda se uno cerca di... Eh, ti stavo chiedendo del nuovo ospedale. E veda se poi lei prova a difendere il suo territorio, l'attuale assessore manda messaggine ai sindaci dicendo che mi ha querelato e mi ha denunciato, ma lui mi può denunciare e querelare quando vuole. Io non ho paura, non ho paura né di lui né di nessun altro perché io sono a posto con la mia coscienza, ho sempre difeso l'ospedale della città di Siracusa. Perché veda questi sindaci che da alcuni mesi si vogliono occupare dell'ospedale di Siracusa, benvenga il loro interesse. Però ricordo che quando io facevo lo sciopero della fame per fare finanziare l'ospedale, questi sindaci non li ho mai visti. Quest'estate, quando io a partire dal 14 luglio tutti i giorni attaccavo il governo dicendo che la riforma del sistema sanitario in provincia di Siracusa era una riforma che faceva di Siracusa la colonia di Catania, non ho mai sentito un solo sindaco parlare, uno solo, a cominciare evidentemente da quello di Siracusa che dicesse Vinciulla a ragione poi Vinciulla a torto, cioè se voi pensate sono stati tolti rispetto alla programmazione precedente 12 posti letto ed è una cosa assolutamente ignobile, così come è insopportabile l'idea che una sanità come la nostra vengono tolti 35 unità operative semplici e complesse perché ciò significa che i migliori medici della nostra provincia saranno costretti ad emigrare e in questa vicenda evidentemente si innesta l'operazione nuova sede dell'ospedale. Allora, io dico, l'ospedale Umberto I di Siracusa era ospedale provinciale ed evidentemente essendo ospedale provinciale gli altri sindaci e le altre comunità locali potevano chiedere che venisse fatto in un luogo diverso. Oggi l'ospedale di Siracusa è un ospedale di primo livello è stato equiparato a quello di Scigli per essere chiaro è stato equiparato a quello di Avola Santino Unicida e mi fa piacere citarlo nuovamente quando era presidente della regione non si è mai occupato di scegliere l'area dove costruire il nuovo Garibaldi di Catania perché sapeva che la scelta dell'area non compete al presidente della regione non compete nemmeno agli assessori regionali la scelta dell'area di esclusiva competenza del comune di Siracusa e il civico consesso del comune di Siracusa da 1985 in poi ha sempre scelto un'area che gli ha indicato l'ASP non c'è stato mai un momento in cui il civico consesso ha scelto un'area diversa da quella che gli ha chiesto l'ASP anche fra maggio e giugno del 2017 l'ASP ha chiesto quell'area e il consiglio comunale di Siracusa ha indicato nuovamente l'area poi veda sul fatto che l'ospedale debba essere costruito fuori dal centro abitato e tutti dicono guardate che succede a Catania il Garibaldi è fuori dal centro abitato il San Marco è fuori dal centro abitato anche questa è una sciocchezza vedete il Garibaldi si trova in via Palermo che è una delle vie storiche della città di Catania per essere chiaro una delle più indassate quella che serviva a noi siracusani quando dovevamo andare a Palermo stiamo parlando di 40 anni fa non per nulla si chiamava la via Palermo perché era la strada che portava quindi il Garibaldi è stato costruito nel centro catenese urbano in via Palermo stesso discorso dicasi per il San Marco il San Marco è stato costruito nel quartiere di Librino a muro di confine con l'ospedale di San Marco ci sono le case popolari di quel quartiere per cui evidentemente nella scelta che è stata fatta è stato privilegiato il rapporto fra il territorio quindi gli abitanti e l'ospedale e poi ai sindaci io dico vedete quanti posti letto aspettano alla città di Siracusa alla città di Siracusa aspettano 3,78 posti letto ogni 1000 abitanti di conseguenza la città di Siracusa aspettano circa 500 posti letto l'ospedale il nuovo ospedale di Siracusa conterrà meno di 300 posti letto di conseguenza è l'ospedale della città di Siracusa anche perché quando è stato costruito quello di Lentini noi siracusani non abbiamo messo bocca quando è stato costruito quello di Augusta non abbiamo messo bocca quando è stato costruito quello di Avolo di Noto non abbiamo messo bocca bene noi non è che diciamo che l'ospedale nostro lo gestiamo noi però pretenderemo pretenderemo rispetto da parte di alcuni sindici non ultimo quello di Palazzolo che un giorno con la fascia della sua città è entrato nella sede del Consiglio Comunale di Siracusa così come pretendiamo rispetto dal sindaco di Melilli il quale parla di sanità dimenticando che il comune di Melilli ha il più alto rapporto fra posti letto e abitanti che esiste al mondo il comune di Melilli ha un rapporto di 16 posti letto ogni mille abitanti la città di Siracusa ha 1,8 posti letto ogni mille abitanti quindi poi diranno ma l'abbiamo fatto a città di giardino ma che te l'abbiamo detto noi di fare la città di giardino non solo che mentre i posti letto della città di Siracusa sono posti letto poveri cioè nel senso che non si paga Imo non si pagano tasse quelli invece del comune di Melilli sono posti letto ricchi perché sono posti letto di una struttura convenzionata con l'ASP e di conseguenza si paga Imo si paga Tari si paga tutto ciò che compete pagare a una struttura pubblica mi fermo ti fermi soltanto perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione la caratteristica anche di punti a capo è quella di essere concreta e veloce e non è neanche poco occorre cerco di essere più veloce sottolineare perché tutto ciò che dice l'onorevole Inciullo o comunque qualsiasi ospite che viene in trasmissione ovviamente è tutto di propria responsabilità trasparente e chiaro non ci sono dubbi che mi assumo la responsabilità di tutto ciò che dico proprio perché è il dovere di giornalista doverlo dire così come vede su questa vicenda dell'ospedale io tante volte ho chiesto un pubblico confronto un pubblico dibattito perché è facile parlare e anche oggi rilancio ecco questa proposta di un dibattito dibattito non significa litigare dibattito che significa ascoltare le ragioni degli altri abbiamo solo un minuto e me lo riservo per la domanda finale ma prima come ti consueto la linea va alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione che vedete in sovrimpressione con il numero telefonico della redazione l'indirizzo di posta elettronica e quello email personale dove potete rivolgervi comunicare scrivere per avere ulteriori informazioni su quello che ha detto il nostro ospite ma anche per criticare purché le critiche sono costruttive sugli argomenti di questa puntata torniamo da Enzo Vinciullo per concludere hai rinunciato a candidarti a sindaco hai appoggiato Ezechia Paolo Reale non ti chiedo come andrà a finire il ricorso se no dobbiamo fare un'altra puntata e tu avanzi però lo stesso con Siracusa protagonista con Vinciullo già il nome del tuo movimento dice tutto Siracusa protagonista con Vinciullo perché la tua Siracusa tu fra l'altro sei devoto della Santa Patrona eccetera la senti tu qualcuno dice sei un sindaco di servizio nonostante manchi la candidatura certo qualcosa me la devi dire in conclusione dell'amministrazione comunale attuale di Siracusa e del sindaco Francesco Italia allora io ho sempre fatto politica non per avere un ruolo altrimenti mi sarei candidato anche a consigliere comunale e invece come vedete ho sempre avuto rispetto per chi mi sta attorno e non ho mai occupato spazi e luoghi che invece competono i consiglieri comunali Castagnino Alota Mauro Basile che sono tutti bravissimi che svolgono un'attività molto importante al consiglio comunale avrei potuto anch'io candidarmi ma ancora una volta nei giorni della scelta ho fatto prevalere un ragionamento razionale e ha detto bene se anch'io mi candido è chiaro che Ezechia Paolo Reale andrà a ballottaggio se io non mi candido vinceremo o almeno pensavamo speravamo di vincere al primo turno ho fatto questo passo indietro proprio perché mi rendevo conto che la città nei cinque anni precedenti era stata amministrata veramente male è stato un atto di amore per la mia città nella convinzione che avremmo vinto e di conseguenza avremmo potuto garantire lo dico questo presuntuosamente potrei anche sbagliare una buona amministrazione alla città di Siracusa fra altre cose io sei anni prima e fu anche il motivo del contrasto all'interno del PDL avevo sempre con la mia lista Siracusa protagonista con Vinciullo sostenuto Tezichia Paolo Reale eravamo stati colleghi insieme nella giunta Buffardecci quindi ne apprezzavo le competenze la capacità l'onestà e avevo pensato ripeto che potevamo trovare questa possibilità di amministrare la città anche contando eventualmente sul sostegno dell'assessore regionale di altri diciamo esponenti importanti di questo governo così non è stato su questa amministrazione vedete a prescindere dalla figura del sindaco che si presenta bene a fisico di roll per fare il sindaco forse io non l'avrei una cosa però è avere fisico di roll un'altra cosa invece è farlo realmente ho avuto cinque anni per apprendere e per conoscere i problemi della città spesso mi rendo conto che è come se questi cinque anni li avesse passati in un'altra città e non invece nella città di Siracusa non di meno la nostra non è un'opposizione preconcetta nel senso che noi prima di attaccarlo offriamo sempre delle soluzioni grazie per questa bella chiacchierata Enzo spero di averti ancora ospite in trasmissione e grazie a voi tre spettatori che ci avete seguito avete seguito quello che ci ha raccontato politicamente Enzo Vinciullo e appuntamento a sabato prossimo con un altro incontro con Punto e a Capo arrivederci e risentirci Grazie a tutti